In un contesto nazionale e regionale ancora caratterizzato da una fase economica difficile, con una ridotta produzione industriale, Banca Etruria ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013 che registra una buona tenuta dell'Istituto di Credito. Il gruppo ha perseguito gli obiettivi di equilibrio strutturale di liquidità e patrimonio in coerenza con la relazione trimestrale. Diciamo che in continuità l'impostazione di attività della Banca sconta ancora pesantemente le perdite sui crediti, quindi con rettifiche molto importanti nell'ordine di 80 milioni, quindi la Banca ha seguito a guadagnare per pagare i debiti di quegli altri. A giugno 2013 sono state realizzate un'operazione di aumento del capitale di 100 milioni di euro totalmente sottoscritti e una cartolarizzazione di finanziamenti personali per 211 milioni con effetti dal secondo semestre. A livello economico notiamo alcuni segnali timidi di ripresa, soprattutto a livello nazionale. Speriamo che questi possano consolidarsi anche per la nostra realtà. Per quanto riguarda la Banca, mi preme sottolineare che la semestrale che si è chiusa positivamente, molto solida, ma non registra ancora i 100 milioni di aumento di capitale sociale che con successo si è chiusa a luglio. Quindi la banca è ancora molto più solida rispetto a quello che appare in semestrale. Questo è il presupposto per accompagnare una auspicata ripresa. Il progetto Shuttle, avviato nel marzo 2011 per sostenere le aziende sane ma in tensione finanziaria, nell'ultimo semestre ha permesso interventi per 141 milioni di euro a favore di 518 imprese del territorio. Da ricordare poi il servizio di microcredito attivato in collaborazione con la Caritas Diocesana a favore delle famiglie momentaneamente in difficoltà.